We got Dio Siride Squadra Alpha Elimina tutti i nemici La tua squadra è stata eliminata La tua squadra è in svantaggio Guardiano a terra Sì Sì vabbè Un colpo sono quasi morto È il fine di corpi Ma dai Ah ma la data l'uccisione Ma vaffanbrod finiti i colpi Mi sta sudando tutta la mano Dieci secondi Fino alla fine Si guarda un pezzo Nooo cavolo Guardate Ero dietro il muro quando mi ha ucciso Maledetto C'è sempre un po' di lag Porca vacca Poi ogni volta che ne uccidevo uno Finivo i colpi Non potevo rishottarlo Ma che roba Beh fammi prendere i ciclopi C'è che io mi diverto un po' Tanto ho quasi la super C'è che io mi diverto un po' Puff Grande filippozzo Io ho bisogno di verdi però Sì ma che canto Secondo me anche questi vogliono perdere Beh non li rush Guarda la cosa L'evoca tempeste Anzi no Lo tengo per le pesanti Guardiano a terra Sono al centro Sì Vabbè L'altro è dietro immagino Aia Così No 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 Ancora lì? Eh ma io uso l'evoca Mi spiace Ma no Ho usato Che round Tutti i nemici sono stati eliminati E' riuscito a buttare Maltello Madonna Sei deciso Mi ho fatto No Guardiano a terra Ultimo guardiano Prendo dei verdi Provo un altro round Come ultimo Prendo dei verdi ma ma l'hai detto c'è mica il video di qua si si lo so hanno usato un martello no no ma dai no che sfiga eh vabbè a volte ti va bene a volte ti va male non avevo visto l'altro caspita almeno la soddisfazione di fare il martello un'altra volta ce l'ho avuta ma seriamente seriamente mida contro pesanti vince mida ma stiamo scherzando che peccato ragazzi stiamo scherzando mida contro pesanti vabbè dai mi faccio l'ultimo round che ho la quasi evocata in peste no cavolo devo stare sopra attenzione king filo squadra avversaria mi erano fonda camperare davvero davvero no questa partita è stata epica peccato non l'ho registrata punto decisivo è l'ora della rimonta no viene il summit ti prego che ci ho evocato in peste voglio usarlo una volta bella perché appena c'ho qualcuno in tiro lo becco tutti i nemici sono stati eliminati giusto non credo potrebbe vincere chiunque non ci sono più ma giuro madonna vabbè dai vado a uccidermi se no no però aspetta voglio divertirmi un attimo madonna che scarsi questi è rimasto leonardo attenzione leonardo uno di noi però è bello giocare come ultimo figo eh sono ogni tanto passano davanti guarda bravo cavolo lo stanno per rianimare si vai 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 bravo guarda come stanno giocando ti prego buttati ma che l'ha restato vai lo puoi uccidere vai resta l'ha uccidio no è scappato via hai finito i colpi perché l'hai ucciso ma che sta mirando col cecchino l'altro lo sta per rassare sta rassando il suo amico grandi leo ma che lo stanno per rassare eh sì sta staga lecce come ha fatto a ucciderti dai scusa la tua squadra è stata eliminata eh ballano ma come ballano vai dai dai spazza qui dito filippo l'obiettivo è il ripple nel 0-1 l'abbè aspetta dei verdi come sai risposto a 100% di verdi poi di verdi faccio un bel giretto di verdi vai prima giro fuori bella questa granata è morto nooo mi è riuscito a prendere ah ma io ero un pughiazzo un po' stacca nozzi ma va che cazzo mi è riuscito a prendere ah non era lui ragù è ucciso va beh dai puoi buttare un account e chiamarti ragù o fc basal player ma chi ti crede dipende quanti anni hanno babbo sai ma anche se sei uno di 12 anni cioè io non mi scriverei mai sul nome ragù l'ho fatto l'ho fatto fermi tutti l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto 4.000 di grimorio si va beh si dice vuole il tuo gruppo di c'è troppo forte punto filo dai facciamo come otteniamo per favore comunque non mi piace in uso troppo lento Ustia Mi mira Perché tu li prendi e io no? Cazzo, questi tre campari mi hanno distrutto Figa, già gioco peggio ancora Ma chi è che c'è qua? No, qualcuno Ci sono dei verdi Sì, presi Vabbè, sicuro lui si è preso dei suoi verdi, credo No, mi sa di nuovo che li ha camperati Ma dai, voglio andare a prendere le vie Abbiamo chiesto un pibale Sì, li ha presi, li ha presi Ressami, ressami Ma cerca di salire sopra non ce la fa No, ma dai, ma sei troppo veloce Devo andare a sparare Devo prendere le verdi Oh Ricky, mi dispiace ma Ehm 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 Il mio file è tutta questione di... Capito? Capito Sì, passatemi davanti in 15 Eh, esatto Ci mirano Ho preso in vola, attenzione Scusa Eh, la sua luce però non so dove sia, credo sia per terra Beh, vabbè Vabbè, io mi prendo le verdi E vado a prendermi anche quelle fuori Se no non c'ho colpi Vai vai Niente, mi ha scappato Scusa Fio, prenditi queste qua fuori Andi Andi Vicky, non ucciderlo, lascia che continui a ressarli. Ah, dici? Eh, io c'ho già... Pure io ce l'avevo, che è già pronto da due round anche. Niente, non dire essa. Eh, vabbè, ascolta, facciamo meno di mirarli. Facciamo... Wow, ma guardalo, guardalo. Verichino. Ti è? Ma altri viodi non ci sono. Eccole. Sì, qua a destra. Ah, dieci secondi. Perché non mi dà le verdi? Mi sa che hanno appena buttato via da super. Sì. Sì. No, che ciccata che ho fatto. No, scusate, non mi ho visto che era l'ultimo. Vabbè, ma io gli sparo l'Evoca Tempeste, dai. Ah, vai tu con l'Evoca, ok. Ah, se vuoi andare tu io vado fuori, dai. Io vado fuori e tu vai dentro. Chi ha più culo? Oh, se no, fermi tutti, fermi tutti, aspetta. E se ci buttassimo giù così siamo 3-2 e ci facciamo un round a testa? E facciamolo adesso o un round a testa? Ah, però ci sono le pesanti. Eh, ma ci sono le pesanti. Se ci buttiamo giù arriviamo a 2, così facciamo 3-4-5, no? Vabbè, fammi provare a cecchinarli. Merda, mi son buttato giù. Sei l'ultima arma in gioco. Arrivo. Arrivo. Eh, filo tranquillo. Sì, vabbè, ma questi sono scandalo così però, eh. Dai, Ricky batta. Vai a premerti le verdi e dopo buttati giù. Hai ragione, mi prendo le verdi. Dai che si stanno rianimando. Volevo ucciderlo mentre lo restava. Magari ti bugano anche. Eh certo, guarda, guarda. Che peccato. Grandissimo! Ok, dai. Eh, Ricky, tocca a me. Quindi mi devo buttare? Sì. Ho sbagliato salto però. È valida la super? Sì. L'attivato pistola d'oro. Vai, io controllo dalla tua parte. No, filo! Cosa? Filo ti dovevi buttare. Dovevi buttarti giù? Ah, c'è un babbo. Buttati! Eh, fagli fare il round a figlio e buttati tu io. Eh, sì dai, mi butto io. Sì, dai, mi butto io. Filippo, mortacci tua. Osteria. Attenzione. Tieni la sottomira col cerchino. No, no, va che la sta per arrestare. Sono a sinistra dove ci sono dei presenti. Lo resta, lo resta. Mi erano da quel cecchino. Ah! A sinistra, la tua sinistra ti starai scendo. Bravo. Che cazzo fa? Eh. Guarda che ti bagga. No, non ha ti baggato. Ok, faccio io. Faccio io. Mhm. Guardate. Guarda che erano fortissimi quelli, eh. Pfff. Puoi lanciare a zimmano, fermo. Aspetta che almeno ti prendi lo speciale, spasta. No. Comunque trovo... Ah, bravo, grazie. Allora andiamo a prendere anche da... Vale. Quindi guardate che classi sono, per favore. Aha. Allora, uno era pistolero sicuro. Si, l'ha già usato, ok. L'altro era con la freccia. Cacciatore con la freccia. Che c'ha il pompa tra l'altro. Ma mi sa che l'ha usata quando c'era la bandiera a conquistare. Sto prendendo pure questo. E... Due pistoleri e una freccia. Ostia. Si, lo puoi anche chiedere. Boston mi sta correndo indietro. Ma vengo a uccidermi. Uh, grande. Salvataggio. Quanta vita avevi. Neanche metà. Neanche metà. Sotto di te. Bella. Filo, cosa fai ancora lì? Ah, mi sto pigliando le speciali. Non sto sparando. Sto pigliando le speciali. Ah, ne è un altro. Eh, però loro non lasciavano perché ci vedevano i due. Tu carichi? No. No. Fatemele faranno queste cose che tu scarso, cazzo. Eh, l'hai detto prima. Filo, buttati. Filo, buttati. Un po' di gioco. Un po' di gioco. E' un po' di gioco. Un po' di gioco. Ma non do resse. No. Oh, è stato full questa volta. Dove hai fatto il figlio? Dove hai fatto il figlio? Dai Enrico, ti deve lasciare stare. No, no, no. No, no. Tanto dobbiamo morire, raga. Ah, cavolo, io c'avevo anche la sub. Dai vabbè, ci buttiamo giù, Enrico ci fa l'ultimo round. In caso. Andiamo avanti a ucciderli come prima. No, cavolo, scusate. No, buttatevi. No, no, no. No, scusate. Porco Dio. Scusatemi, la forza dell'abitudine. Squadra brava. Fai fuori la squadra avversaria. Perfetto. Cazzo, è FMJ che mi prende da dietro a porta, porca troio. ma sono tutti qui ancora qui a tutti qui a camperare sempre tenendo di veri proviamo disturbate ho scritto un colpo di oltre nulla era nostro ma perchè non posso prendere via? penso di avere un problemino mi riesco a muovere il pallice sinistro ostia così è il massimo di riuscire a muovere la levetta ma come fai? che problema è? non ne ho idea mi riuscire ad entrare un po' adesso sto usando la mano destra per stare qui è colpa del pincoaster guarda lascia stare e sono tutti sulle nostre luci guarda e vabbè ok non ho visto uno ma questo non prende danno tutti li stanno per uscire dal coso bravo tieni l'occhio che praticamente mortiscono da li perchè evidentemente non sanno che c'è la bandiera tra poco lo stanno restando eh restato bravo l'altra è dietro le casse sulla destra dove l'hanno restato 這ità è muovere bella ho solo due colpi però non si però E c'è la squadra Tutti rossi Mi ha salvato la partita di prima Ricky, sai che ho già evocato Tempeste Eh? Ho già evocato Tempeste E ci credo, hai fatto tipo 5 uccisioni Più 2 minuti di cosa Se c'è l'intelletto al massimo ti eri già carico a metà più le uccisioni Io ora mi faccio il giro per prenderle via Uno è venuto qua, è un po' di baggio Sì ma ho spaccato l'Evoca Perché? L'hai usato? Bene, due taglie con un colpo solo Sì sì l'ho già usata da loro, l'ho usata ma Aspettate a uccidere l'ultimo per favore Tanto abbiamo capito che anche questi sono molto molto scarsi Quindi vorrei farmi un bel giro di verdi perché ho solo 3 colpe Io lo sto già facendo, se prendi quelli fuori dove ci sono le pesanti li trovi già aperti Infatti sto... Ma tra l'altro non ho capito cosa sto facendo l'altro Cioè non puoi andare a animarli Infatti Buona 11 colpi adesso Ah, non smettitela Aspetta che gli ti baggo un attimo No mi sembrano le verdi Io da te ci sono le verdi Sì Da me sì, dove siamo la cima 14 secondi qua 10 10 Ma capoviglio Verdi qui Ma dai Perchè mi da un massimo? Va bene Anche qui Ma seriamente? 16.16 colpi Dai 1 dai martelli oh ho beccato in testa almeno fantastico guarda la prova di 7 dopo due round vabbè e ho già praticamente di nuovo evoca tempesta grande sei troppo forte bravo chiunque tu sia Filippo Onzo uno di noi ma che uno passa da sotto ma come l'ha arrestato che stavo tenendo d'occhio sgurate no tu non hai idea da dove l'ho preso no io ti andrò a fare il giro di me è troppo forte è qui dietro è qui dietro è qui dietro due non riesco a vedere ma si è arrestato non l'avevo visto niente a sinistra dal centro ti arriva che liscio tanto a destra sei libero 25 secondi mi raccomando lo sapevo che tempesta è saggiamente e uno sulla luce di filo puoi anche andare al centro secondo me no 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 se non puoi ucciderli conquista la zona adesso l'ha rianimato dietro 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 ecco no eh vabbè verabili altri dai ti buggatemi che peccato guardano su va bene va bene ah guarda mi dicono di andare al centro io volevo cerchinarli no dovrestano no torcerà la voglia spero dire animale non credo si è finito di cercare le decisioni vabbè prendo le verde va ho buttato via 15 colpi martelli 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 a sinistra non mi ha fatto no sono riuscito a ciccarlo mortacci mia eh rianima filo eh no ormai sono andato io vai torna da noi in casa però devi ridulli ah eccoci lì ma cosa fa a capo allora io ho fatto di quei disce il titano che non avete idea porca messa ho fatto di quei disce il titano che non avete idea un pezzo di merda no vabbè ripeto sì ma c'ho levo per non ti preoccupare vai vai e mi sa che non vengono vabbè io non le prendo io le prendo così me le prendano loro mi sono ucciso sei ucciso vabbè ascolta io vado prendermi le merda e loro stacca ma no ha finito le merda di caspita ho preso tu tu hai preso loro voi ne ho preso loro giusto per sapere no io ho preso di loro io ho preso di loro io ho preso di loro aspetta io con chi ero a destra vabbè 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 com'è io non l'ho уcile lucky no ma ci sono le due ci sono ma il ricordo ea cavolo non sono riuscito a prenderlo grande io ma quanti martelli hanno usato scusate non lo so come sto messo il filo ah io sono libero ti prendo? ciao il titano qua davanti no e ti rendi fonte? vabbè ma sta fuggendo da foggia prendiamo indietro che la luce titana in base a no mi prendo dei verdi qua fuori nooo raga mi sono uscita colfusione ma seriamente vabbè noi che lo stiamo facendo scusate eh si ma col cecchino no riti 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 no via della bandiera via non è valda tutto ci sono due contro uno no riti riti noia no riti ma andiamo a finire di sempre questa si beh guarda che roba guarda che rato che ci abbiamo guarda il concilio non è divertito così tanto se lo si vede come stasera un 174 in un quarto come non passa da sinistra da dietro un'altra no vabbè uccidiamoci ma mi rovina in rapio così lascia almeno mettiamoci dove c'è la bandiera no ecco filo che rovina tutto ci mettiamo dov'è la bandiera aspettiamo che li rianima e li cecchidiamo come prima no filo vieni qui anche se la tentazione di prenderla in testa di chi era troppo alta eh sì credo ma adesso me l'ha dato il cisimone quante kille sono ok ok vabbè tengo l'occhio qua dal centro no vabbè non lo tengo l'occhio dai dai l'ultimo è qua al centro rianima ma come è riuscito a spostarsi me lo spiega io non ho non è riuscito a spostarsi non è riuscito a spostarsi ma non è riuscito a spostarsi Eh, aspetto che rianima piuttosto, perché sennò lo decidi. Ops, più la merda. Raga, perché stiamo continuando a vincere? Perché andiamo al faro, Filippo, perché andiamo al faro? Ci facciamo, aspettiamo le verdi e ci chichiniamo? Eh, aspettiamo le verdi e poi ci chichiniamo. Come va fatta a prendermi, se non prende nulla, bastardo, tiratemi su, guarda. Quindi prendo le fie speciali. Mi ho preso lì, no? Sì. Sì? Che gran tannaggio è questo? Porco Dio. No, non mi andiamo a pressare. Uh, attento, ma non pannocchio, per favore. Madonna. Pannocchio. Ma puoi ragazzi buttare un nero? Eh, sì, sì, hai 12 anni. Non ho capito. Anche uno rascia. Oh, come l'ho preso! Saluta, Pampannocchia! Pampannocchia? Ecco. Questo mi ha pampannocchiato. Dai, rianima. Oh, scusa. Guardi come due fagiani, tutti e due erano. Dove è fina? Andiamo di via, di va. Ostia, galera. Eh, dai. Sì, esatto. Se qualcuno mi rialzo, mi farei un giro di verdi. Scusa. Raga, la perdiamo subito. No. Eh, un po' di viafino. Vorrei farla taglio al gento io. Ma che manca un 39 punti. Cosa devi fare con il argento? Eh, ma devo prendere un altro biglietto per forza. Ok. Quante punti siamo? Una o due? Una. Allora, forse posso farci. Io non ho ancora più in là, la prossima volta. Porca merda, sono tolito di lui. Ma tu ve l'hai ucciso, perché io non lo vedevo. Il solito punto, Rick. Vabbè. Non vedevo la luce. Perdi. Presi. Presi. Che mancio del cavolo. Aschia, ma sono qui da me. Giù da me. Giù da me. Sono dove respawniamo. Uno è sulla mia luce. Fermo immobile. Fermo immobile. Merda. Eh, mi prendo le veri. Io l'assunto. Oh, vai. Guarda che è morta. Oh, madonna, che tiro. Ma che c'è ne uno ti inseguire? Sì, sì. Ho fatto sparata e caricata in volo, e lo ha anche. Ah, ma quello lì c'ha il casco deficiente che ti tiene fermo. L'ultimo filo. Eh, no, l'hanno restato, era vicino a me. Sono sulla mia luce. L'ho scatta. Prendere le verdi. Io sono libero, l'altro non lo vedo. Vabbè, dai. Ti butti. Perché? Ma questo, da dove è uscito? Oh, guarda dove ti sei messo. Dov'è? Dov'è? Ma che... No, no, lo stanno restando da filo. E vabbè, finché ti salta addosso così. Oh, attenzione. Attenzione. Ahia. Questa è la provocazione di entura. Stavo guardando il cimulato. Chiamato come? A me basta. Basta vero. È il cacciatore. Chiamato ti bag? Il balletto strano? No, no, ero... Ma... Ma mi hai rubato da chi? Fingimi avanti, mi raccomando, eh. Fammi cadere giù. Certo. L'oressa. No, cazzo, non gli mancava niente, ma porca... Ma dov'è fa, cazzo mio? Madonna, che chic. No, dovevo ricaricare. Porca madre. Madonna, da un metro l'ho sciottato in testa, fantastica. Non ti ricordi il nome dell'indifilo? No, non ti ricordo il cacciatore. Ma niente, era un cacciatore. Fatta? Sì, controlla, grazie, ti voglio accettare. Non è Clank. E' Manu Pannocchio, è Manu Pannocchio. Ok. Sicuro Manu Pannocchio. Ma io gli ho sparato... Me ne ha fatta su di me. No, no, io l'ho capito in testa mentre ti faceva, mentre sparava da su. Rianima, rianima. Tra figura a me. Eh, non è stasso. Tra figura a me. Vabbè, tu dimenticare... Gatti, due cose erano conosciute, non ho capito. Non ho capito. Non ho capito. Non manco visto, lo so. Bomba nuova. Merda. Merda. e poi un titano un sceltatore o un bu? bu è il tuo o levo carichi? si madonna, mi ha fatto quel bomba 9 davanti a 3 ma guarda che idiota ah ma è stato stupido io ah ma sta andando a 4 c'è, devo giocare bene punto decisivo, non lasciartelo sfuggire ma guarda, è grande, è grande e l'altro però è fuori è tuo? si vieni, prendati le sfere qua quanto le due luci sono qua, per cui si sai che puoi ti bagliare nei propeller super vero? eh ho visto adesso appena mi rivedo è qua in fondo è qua in fondo Ricky sta scappando si si sta facendo il giro è di nuovo qua da me è qua da me Filo tu dove sei? tu dove sei? dietro lì Riccardo da me, da me, da me, da me per favore oh oh verdi ancora tutti i nemici sono stati eliminati no Aleo, perchè devi ti bagliare? perchè era il cacciatore e l'ho ucciso ah Manu Pannocchi ha detto il cazzo Manu Pannocchi ha detto il cazzetto, vorrei dire non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno arrivando a basso arrivando a basso no, questa me la devo far vedere attenzione ha attivato il martello l'ho ucciso subito ecco ecco va bene dai uccidiamoci come si vuole fare vincere il mister Pannocchi ah effettivamente hai il tuo perché è la punta nessuno balla nella mia luce neanche il mister Pannocchi ho quasi il vulcano e io sono a metà non c'è nessuno ho idea che siano fuori non c'è nessuno un loro ma a cambio non vedo niente costa un volto e metto dal damello bello grande ricky ma no come non ho preso il titolo attenzione attenzione dovevo uscire aveva ragione cosa dovevi uscire non ho capito non è che ti ho detto non dovevi uscire ma se mi avevi voglia vedo perché dovevi uscire no ma non è che non avevo voglia sapevo che poi finiva a campari a pericino ma come mi ha ucciso aspettateci per l'ultimo per favore facciamoci un giro di verdi aspetta che vado a prendere da me l'ho preso e sto prendendo alla sinistra dell'albero cioè più verso di noi il nostro spawn vado dall'altro lato ok fatto non ti devi mai cura che fine ha fatto Lorenzo Micheli ogni tanto boh scompare scompare sono sopra di Marag poi a te cosa vuol dire dove? alla zona di responso sono sopra di Marag non c'entra non c'entra devo l'alatto sinistro guardiamo a te guarda se provo speciale ma ce ne ho una d'altra parte però detto si c'è un colpi perdono non tiratemi su guarda ma ucciso da dietro il muro e si trova è andato rianimato? eh rianimati tutti etrà dal centro buono voglia non voglia corrompi chiaccia dai ti banga anche no dai no 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 volevo mi chiamare la falsa allarme se no oh ma non si chiamare 15 colpi perché hai messo a rompire i lacci figlio non è andato a destra così il morto non l'ho preso non l'ho preso vai figlio vai figlio buono intanto uccide l'ultimo ci facciamo un diretto di speciali come prima ma come non c'è ah mi ero bato da chi tu ma come non c'è ah mi ero bato da chi tu no mica la rianimato l'altro no non mi ero bato cazzo non sono granata niente raga non luce uccide 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 ma c'è un altro in giro ah niente adesso ma dato scusa uccide dai 67 di 75 su 8 punti e non so come dire i punti sinceramente come? non so come dire i punti quindi erano persi un punto erano pareggiato un punto erano vinto 3 punti non c'è nessuno qua mi sa che vanno fuori scusa fila si fuori 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 siamo fatti a vicenda ma da dove? uno che mi rianimi c'è nooo che stupido ho schiacciato r2 ma niente la squadra è stata eliminata mi faceva sapere che arrivavo da la c'è qualcuno fila? no 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 niente è deciso fuori dove c'è l'hander le verdi dell'hander eh qua da me ehm mi sta rianimando di fronte a me diciamo dall'altra parte nooo mi mira col secchio scusa non c'è l'hander non c'è l'hander non c'è l'hander ma come cazzo fa? mamma mia allora scusate boh ne ho mancato due volte c'è l'hander hai usato la suga? si ma no no mi sono incastrato scusatemi ostia 69 6 punti dai due round io vado a destra non ci sono sono qua vengono a sinistra ah di rio guardiamo a te porco dico eh scusate eh scusate eh di sul ok lo vedete 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 ma come hai deciso? ricky ricky mi rianimami ah scusa vabbè complimenti direi sono qua vicino davanti a tari scusarei davanti a tari davanti a tari diciamo di diciamo di diciamo di no ma ma ha ucciso con la granata incendiaria come ha fatto? eh appunto quello ti dicevo vorrei sapere comunque come mi è uscito il mood su quello da che danni e che se mi ha animato niente 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 1 è qua da me 1 è qua da me niente niente vai 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 è quasi morto è dietro l'angolo vieni 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 riu sopra di te o io stai tutti vicini se la bomba 9 ci fa vabbè vabbè c'è qualcuno usata il super no io c'è ancora mancano due punti, quindi se vinciamo è fatta, anzi moriamo così ci facciamo non c'è nessuno, uno fuori e qualcuno dal lato destro, ostia, perché l'avete visto, martello e tu lo devo capire, si però mi ha fatto comunque, ho fatto il martello, ah figa, ah riccardo davanti e ho visto, merda, e vabbè, sai che i dettagli ci offre un'altra, vieni da merichi sul libro, eh sto arrivando, davanti a voi raga, davanti a voi, io vi ho visto, no come mi ha preso, vuoi? 편verje yarn pepplbane barni dai ragazzi ciao per se non minima vulgo fredda astrology Grazie.